Domenica 17 marzo si disputerà la 104esima edizione della Milano Sanremo, la più importante corsa ciclistica di inizio stagione, che per la prima volta si svolgerà di domenica anziché di sabato. E questa scelta non sarà particolarmente fortunata quest'anno, infatti le condizioni meteo saranno avverse per gran parte del percorso. Percorso che come di consueto partirà da Milano intorno alle 10 di mattina, attraverserà la Pianura Padana per poi arrivare in Liguria e infine a Sanremo dopo quasi 300 km. Sul percorso i corridori dovranno affrontare 4 salite, tra cui il passo del Turchino a quota 532 metri, la salita delle Maine, la Cipressa e infine il poggio di Sanremo, con pendenze massime che toccheranno l'8-10%. Ma vediamo il dettaglio meteo che come dicevo prima non sarà particolarmente felice, infatti i corridori alla partenza troveranno cieli coperti con pioggia mista neve a Milano, che poi tenderà a diventare praticamente neve bagnata e tutta neve durante l'attraversamento delle pianure piemontese fino ad arrivare al passo del Turchino, con temperature anche intorno agli 0 gradi, quindi farà particolarmente freddo per i corridori. In Liguria poi i ciclisti troveranno ancora maltempo con piogge e temperature intorno ai 10 gradi. Infine in serata l'arrivo previsto a Sanremo dopo le 5 con ancora pioggia, a una temperatura di circa 9 gradi. Bene, con questo è tutto, vi auguro buon weekend e una buona Milano Sanremo a tutti!